Sono entrato nel mondo del basket 3x3 ormai da cinque anni. Inizialmente è un po' complicato ambientarsi perché regole e anche intensità è tutto molto diverso. Penso la differenza più grande tra il 5.5 e il 3x3 è proprio l'intensità perché non ci si ferma un attimo, sempre si passa di presa attacco in 12 secondi quello che dura un'azione. Quindi penso che questa sia la differenza più grande. Crema una piazza storica per la Serie B. Ho sempre avuto il piacere di giocarci contro in questi ultimi anni. Molte persone ne hanno parlato bene e sicuramente questo è stato un buonissimo aiuto per me che rimane qui. Poi parlando con il coach, parlando con la sanità, ci siamo trovati sulla stessa linea d'onda. Quindi questo mi ha portato perfetto. Sul Pionvino è sicuramente una squadra ostica. Forse è una delle più difficili da affrontare in questo periodo del campionato. Vengono da buonissime prestazioni. Hanno giocatori importanti e tiratori importanti come possono essere Turel, Piccone e Ammanzi. Sono una squadra che fa dell'intensità il loro punto forte. In casa viaggiano veramente a una cifra di punti segnati alta. Quindi noi dobbiamo stare attenti a non far accendere i loro tiratori sicuramente e poi dobbiamo cercare di fare la nostra mattina. Grazie. 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 Grazie.